Dove abita Romina Power a Roma Romina Power vanta tantissimi anni di carriera, ancora oggi è molto seguita sia in Italia che nell'Est Europa. Ma sapete dove vive a Roma? Romina Power non si distingue solo per essere una cantante molto importante ancora in questo momento ma anche per la sua eleganza. La sua classe, il suo essere impeccabile la rende una donna con gran stile ancora riconosciuta oggi. La sua relazione con Albano è stata seguitissima da molti appassionati, interrotta poi per varie vicissitudini nel 1999. La separazione, immaginiamo, sarà stata dolorosa ma inevitabile. Romina è andata avanti ed è abita in una casa davvero molto bella e che rispecchia il suo stile. Una casa che ha una storia particolare, come dichiararono le figlie Christelle Romina Junior, a Mara Venier durante domenica in La storia è quella in cui la mamma ha donato la casa di Trastevere ai buddisti. Un aneddoto particolare ma che fece ridere tutto lo studio. Romina Power, la sua casa di Trastevere Nonostante i buddisti che meditano nella loro casa, l'appartamento rispecchia molto il suo stile. Una donna di classe e dal buon gusto anche per la scelta dell'arredamento. Questo si presenta con colori caldi ma che non danno in alcun modo fastidio. Rendendo il tutto con il giusto equilibrio. Non poteva essere altrimenti per una donna che in pubblico è sempre risultata impeccabile con una certa grazia e raffinatezza. Un appartamento che per lei, e le sue figlie, rappresenta un luogo sicuro e accogliente. Anche se la sua donazione ai buddisti di certo non passa inosservata. Ora la cantante è tornata anche ad esibirsi con il suo ex storico. Una reunion che ha reso felici tantissimi fan della coppia. Probabilmente, però, la loro coppia si è riunita solo su un palco perché le loro vite private restano separate.